Vediamo come padroneggiare le abilità mentale. Io sono Paulina Ferrari. Le tecniche mentale che adesso vi illustro si sono dimostrate vincenti nell'aiutare le atleti a forgiare un assetto mentale da campione, al fine di esprimere al meglio le proprie capacità. Ricordati di adattare ogni abilità mentale alle tue specifiche esigenze e alle diverse situazioni in cui ti troverai. Un approccio mentale di questo tipo non si sviluppa in una notte. Segui i medesimi processi di apprendimento che utilizzi per sviluppare le tue capacità fisiche. Ripetizioni, pratica mentale quotidiana e intenzionale. E rinforzo, sentirsi bene in relazione ai tuoi sforzi, tanto da poter dire frasi del tipo sto mettendo su muscoli mentale. Per arrivare a padroneggiare queste tecniche definisci il tuo piano di miglioramento e prova a focalizzarti su una o due competenze mentali più volte al giorno per citare delle basi forti e solide. Le competenze mentali che tratteremo sono Goal setting Pensalo, poi scrivelo. Immaginazione mentale Visualizzalo, per realizzarlo. Self talk Nutri il lupo buono. Fiducia Esercito i muscoli della fiducia. Focus Un campione è colui che sta nel momento presente. Controllo del respiro Il controllo del respiro Resistenza mentale Costruisce le tue riserve di energia interiore. Gestione dell'ansia Divertimento L'umorismo è la miglior medicina dello sportivo. Linguaggio corporeo Dai un'immagine da medaglia d'oro Intensità Possiedi la tua zona E frasi motivazionali Dacci dentro con le frasi per diventare un campione E' un piano. E' un piano.